Per forza, con le mani non ci riesci, il punto è stretto, bisogna forza metterlo sopra la terra. Occhio a non fare così! Pronti? Al tre, vai! Uno, due, tre, su! Sotto la cavessa, andiamo! Il vero è di essere bassi! Oh ragazzi, tenete un po' più alto! Sempre più bassi, piegare bene le ginocchia, sempre più giù! Uno!